L'unico governo è quello votato dagli elettori e quello che ha avuto il suffragio popolare. La Lega ha sempre detto così, non cambia assolutamente idea. Mi sembra però, quello che leggo sui giornali, mi sembrano davvero delle congetture prive di ogni senso. La Lega appoggia l'unico governo possibile che è quello voluto dagli elettori.